Noi abbiamo bisogno di un incontro con il Sommo Sacerdote questa sera, abbiamo bisogno di un incontro diretto, personale con il Sommo Sacerdote, l'incontro con lui. E' stato detto che noi non seguiamo una religione, ma una relazione e nella relazione ci si incontra, ci si guarda in faccia, ci si parla, si sta insieme e noi questa sera possiamo andare a lui per i nostri bisogni. Vai a Gesù, vai al Sommo Sacerdote per i tuoi bisogni, per quello di cui hai bisogno, vai a Cristo direttamente questa sera e tu troverai soddisfazione, tu troverai un Sommo Sacerdote che si prenderà cura di te. Sommo Sacerdote per i tuoi bisogni